Non mi interessa fare polemica, secondo me io sono comunque, diciamo, sono estraneo a questa zona della provincia di Avellino, Benevento, diciamo la Valle Caudina, quindi... Però quello che io ho fatto è sempre una riflessione, dal primo giorno in cui ho messo piede qui al Canada, e da sempre Cervinare è stato sempre un paese dove si è parlato molto molto di calcio. Tanti ragazzi, anche in passato, hanno giocato con me, io ho giocato con loro, molto molto validi, qualcuno ha fatto strada, qualcuno meno, allenatori molto validi, la stessa cosa. Praticamente parecchi addetti ai lavori, sotto questo punto di vista, però la cosa che mi fa strano è poi trovare una struttura in queste condizioni, Cioè, si parla sempre di calcio in questo paese, però vedendo la struttura è un peccato, perché sembra veramente che il calcio interessi a poca gente, quindi questa è una riflessione che ho sempre fatto io, diciamo, da estraneo in questa zona. Perché poi ho visto sempre Cervinare, anche quando venivo a giocare da avversario, ho trovato sempre squadre molto preparate, ragazzi molto validi. Un paese dove, ripeto, si parla sempre di calcio, quindi quello che mi fa strano è trovare una struttura, direi, un po' in un strano di abbandono, perché io la prima volta che sono entrato ho visto pure la palestra, pensavo di trovare un ambiente dove si potesse fare dello sport, non solo del calcio, però guardare questa struttura mi fa un po' di tristezza perché, direi, dico, è uno sport che interessa a tanti, però nessuno poi si interessa dove poter praticare, quindi questo è quello che, diciamo, c'è questa contraddizione.